In questa puntata, IRPET si ha il bilancio preventivo 2022. Istituzioni Rigenerazione Toscana Io sono contento dell'approvazione del bilancio di IRPET, il nostro istituto di programmazione economica, che indubbiamente registra il prestigio che questo istituto, anche in questi ultimi tempi, ha saputo manifestare. E ha saputo essere fonte di apprezzamento anche all'esterno della nostra regione. La capacità previsionale, lo vediamo in questi giorni, sul turismo, sui movimenti che, da un punto di vista economico, sviluppa la Toscana. Grazie alla preziosa collaborazione di questo istituto, rendono la Toscana una delle regioni più virtuose nella capacità di presentare anche dati positivi. Perché, indubbiamente, è proprio il riscontro di un risveglio forte del turismo nella nostra Toscana che ci fa sperare positivamente per il futuro. Noi abbiamo votato contro, anche e soprattutto perché ci sono diverse zone d'ombra per quanto riguarda IRPET, ma soprattutto direi la giunta regionale. Si è approvato il bilancio di previsione 2022, ma non quello pluriannale 2023-2024, perché di fatto manca il parere del Collegio dei Revisori. Quello che noi notiamo è che vi è un vizio di legittimità a riguardo, proprio perché, come dicono i sindaci revisori, manca la delibera di assegnazione delle risorse da parte della giunta. Quindi il Consiglio regionale ha votato l'atto riguardante IRPET, ma con questi rilievi che sono stati fatti dal Collegio dei Revisori, ma anche dalla direzione tecnica. Per quanto riguarda IRPET è un bilancio che è strutturato su voci certe, sia di entrata, anche se si riduce il contributo regionale di circa 100.000 euro, sia per quanto riguarda le uscite il costo principale rimane quello per il personale. Anche però per quanto riguarda il personale devo ricordare come vi siano dei limiti normativi per l'assunzione del personale stesso, perché per questo motivo si continua a ricorrere allo strumento delle consulenze esterne. Quando invece per noi abbiamo la necessità, come Regione Toscana, di dare agli istituti, e tra questi IRPET, che potrebbe essere particolarmente prezioso, gli strumenti, le risorse, il personale. Noi abbiamo presentato un ordine del giorno per far sì che vi possa essere una migliore programmazione nel tempo, ci è stato bocciato e così abbiamo votato contro questo atto che, ripeto, presenta non poche zone d'ombra. Il Consiglio regionale a maggioranza ha espresso apprezzamento per il bilancio preventivo di IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. Ha espresso apprezzamento non soltanto alle previsioni del bilancio, ma anche al programma di attività annuale pluriennale, che è un allegato al bilancio stesso. IRPET è un ente estremamente prezioso, sia per la Giunta regionale che per il Consiglio regionale della Toscana, in quanto svolge un'attività di ricerca, un'attività di consulenza per la Regione, che è particolarmente delicata e incisiva in alcuni settori strategici di governo del territorio. Le entrate di IRPET sono dovute soprattutto a un contributo ordinario che viene dalla Regione, un contributo consistente, al quale poi si affiancano diverse centinaia di migliaia di euro che derivano dalle risorse dei fondi regionali, dei fondi nazionali e soprattutto dai fondi europei. Sul fronte dei costi IRPET ha chiaramente un costo molto elevato collegato al personale, oltre 2 milioni di euro. Tutta l'attività di IRPET si basa sulla ricerca, sulla consulenza e quindi l'investimento nel personale diventa di rilevante importanza, oltre che nell'acquisto di beni e di servizi, come ad esempio le banche date sulle quali vengono costruiti poi modelli elaborati da IRPET. Apprezzamento da parte della maggioranza del Consiglio regionale nella consapevolezza di quanto finora è stato svolto da IRPET e quanto ancora sarà preziosa la collaborazione di IRPET negli anni a venire, soprattutto negli anni critici che abbiamo attraversato e che stiamo ancora attraversando del post-pandemia. Personalmente sono soddisfatta perché è stato approvato anche un ordine del giorno che era collegato a questo atto che mirava sostanzialmente ad impegnare la Giunta sul fronte dei maggiori assunzioni per quanto attiene la ricerca. IRPET, proprio perché la sua denominazione a caratterizzarlo, può svolgere nell'ambito di tutto quel sistema di società ma anche di istituti un ruolo strategico nel momento in cui andiamo a fare un'attività di programmazione. La scelta è rilanciamo questo istituto oppure ci soffermiamo al mero dato contabile. Noi siamo convinti che oggi questo istituto possa avere ancora un ruolo strategico ed importante purché ci sia chiarezza da parte della Giunta. Ricordo che noi siamo ancora in attesa del piano regionale di sviluppo che è l'atto fondamentale per delineare le strategie future di Regione Toscana. Ecco, se riusciamo a fare sistema, a organizzare l'insieme di tutto ciò che è strumentale a fare una programmazione efficace, noi su questo non possiamo che essere favorevoli. A noi quando c'è stato presentato il bilancio di IRPET con grandi perplessità siamo andati in aula, abbiamo analizzato tutti i numeri di bilancio e abbiamo dato un voto contrario per due motivi molto semplici. Il primo è perché IRPET ancora oggi fa la fotografia di quello che succede. Guardate, la fotografia di quello che succede, di quello che sta succedendo, non c'è bisogno che ce la faccia IRPET. Basta andare a giro, basta ascoltare i cittadini, basta andare a comprare il pane e capire che oggi il pane costa 4,10 euro, il latte costa 1,15 euro, fare la benzina costa più di 2 euro, che una semplice cofanettino di fragole costa 5 euro. Basta andare a giro e parlare con le persone per capire che la bolletta della luce costa il doppio rispetto a tre mesi fa e che la bolletta del gas addirittura nelle aziende è triplicata. Basta andare a giro e parlare con le persone, non importa la fotografia di IRPET e non importa mettere 2,780,000 euro della regione toscana per sapere questo. Noi da IRPET vogliamo qualcosa di più. La fotografia ce l'abbiamo, ce la dicono i cittadini tutti i giorni. Noi vogliamo capire come reagire, dove dobbiamo andare, dove andranno le aziende, il comparto del tessile e il comparto del calzaturiero, chiuso il mercato russo, dove andremo ad approvvigionarci dal gas, chiuso il gas dalla Russia, quali turisti verranno nella nostra Versilia e nella Toscana del Sud, visto che i turisti dall'Ucraina e dalla Russia non arriveranno più. Ecco cosa chiediamo a IRPET e lo chiediamo perché quell'istituto di programmazione per noi ha un valore fondamentale, se nell'analisi dei dati c'è anche l'individuazione di una prospettiva, naturalmente in collaborazione con Sviluppo Toscana, con Toscana Promozione, cioè con le agenzie della regione che parlano di programmazione, che parlano di sviluppo regionale e che parlano di dove portare le nostre aziende. Così non è e oltretutto dentro quel bilancio consentitemi di dire che ci sono 350 mila euro di incarichi professionali e di consulenze esterne o 353 mila euro per salari, stipendi e viaggi del management. Ecco, quando si spende 500 mila euro su 3 milioni di bilancio, cioè quasi il 23% del bilancio va lì, per noi non può essere votabile. Ecco perché abbiamo detto di no al bilancio di IRPET, ecco perché noi lavoreremo per un IRPET che non solo fa dati, non solo fa fotografia, ma che aiuta le nostre agenzie regionali, le nostre aziende e il territorio toscano a svilupparsi e ad individuare nuove soluzioni. IRPET è sicuramente uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per fotografare con esattezza e con dati numerici alla mano la situazione economica, sociale, ambientale della regione toscana e ci dai mano quei dati per poter agire dal punto di vista legislativo nel modo migliore. La qualità di ciò che ha prodotto nel corso degli anni è sempre stata eccellente. Il problema naturalmente è politico. Se quei dati, se quegli strumenti si utilizzano per una qualità normativa ha senso continuare ad investire quelle risorse nel bilancio di IRPET. Altrimenti, se come è avvenuto fino adesso, si tratta soltanto di strumenti che servono per lo studio, l'analisi, ma che poi non danno un effettivo riscontro sull'operato politico, tecnico e amministrativo, sono lettera morta. Quindi il nostro giudizio di astensione è legato al fatto dell'utilizzo di IRPET, di quello che si fa col suo lavoro e di altri strumenti anche come penso la Clause avvalutativa che è uno strumento eccellente per misurare il rendimento delle nostre leggi ma che viene molto poco utilizzato dalla regione toscana. Come se si volessero avere dei dati per corroborare ciò che si pensa ma non per dare giudizio a quel che si fa. Abbiamo votato a favore un bilancio di una struttura importante della regione toscana che fa analisi quantitativa e qualitativa dei flussi e delle dinamiche che aiutano la politica a decidere. Un soggetto a servizio dei comuni, della regione, soprattutto in termini quantitativi, riesce a rilevare quelli che sono i movimenti. Abbiamo chiesto di non fare soltanto un'analisi statica di quelli che sono la rilevazione dei dati ma magari anche di prospettarsi rispetto a logiche di previsioni andamentali di quelli che possono essere i flussi di cambiamento determinati da processi magari nazionali o internazionali come avviene in questo momento. Quindi un soggetto che fornisce mediante i propri ricercatori un supporto importante al decisore politico. Allora, IRPET è un ente sicuramente utile per la regione toscana. È un ente utile è un ente del quale anche da rappresentante di una forza politica di minoranza mi piacerebbe partecipare e votare in maniera propositiva e positiva sui bilanci e sulle linee guida. Purtroppo tutte le volte che arriviamo di fronte al bilancio arriva il bilancio e ci lascia delle situazioni fumose delle situazioni poco trasparenti che non ci permettono di votare. Quello provisionale di quest'anno del 2022 arriva nonostante una relazione dei sindaci e revisori che dicono chiaramente che sia stato fatto in ritardo arriva senza la pianificazione per gli anni 2023 e 2024 arriva con dei contributi dei quali non viene spiegato niente 20.000 euro di contributi a IRPET da soggetti terzi per capire di cosa si trattava abbiamo dovuto fare un accesso agli atti ed emerge che è un contributo di 20.000 euro che arriva da Ferrovie dello Stato che non è proprio un soggetto terzo che non ha a che fare con le amministrazioni comunali provinciali e regionali della Toscana in molti comuni esistono dei contenziosi con Ferrovie dello Stato se Ferrovie dello Stato da 20.000 euro a IRPET ci dica per cosa per quale progetto non ci sarebbe niente di male arriva un bilancio con scritto che ci sono contributi da parti progetti in stato di avanzamento qualcuno già sottoscritto con numerosi comuni della Toscana ma non c'è scritto quali non viene messo a bilancio un euro quindi è un bilancio costruito ancora in maniera poco trasparente e quindi da questo il nostro voto contrario Istituzioni Rigenerazione Toscana dal Consiglio 1.750.000 euro per i giovani il bando rivolto alle ragazze e ai ragazzi scade il 16 maggio a gestire le risorse e i comuni che dovranno garantire una compartecipazione almeno del 20% 4 alle sezioni rigenerazione urbana culturale sociale ed inclusiva era una scelta che noi abbiamo voluto fare con forza durante il periodo più difficile quello in cui tante ragazze e tanti ragazzi non riuscivano a vivere la socialità allora abbiamo deciso di individuare in iniziative rivolte ai ragazzi e alle ragazze più giovani le risorse che sono frutto dell'avanzo del Consiglio regionale Sì progetti importanti di rigenerazione urbana ma soprattutto rivolti alle nuove generazioni quelle generazioni che più di altri a mio avviso hanno sofferto della pandemia l'idea nasce lì l'idea nasce da provare a mettere insieme i ragazzi i giovani e soprattutto nei comuni le associazioni provare a trovare degli spazi dei luoghi di aggregazione questo è il punto che a me particolarmente sta a cuore quindi la possibilità per molte persone di ritrovare anche a livelli di socialità dove la pandemia aveva un po' allentato queste relazioni ovviamente altri progetti che poi possono riguardare anche l'arte di strada possono riguardare ovviamente la produzione di festival di concerti se è vero che la bellezza salverà il mondo è altrettanto vero che le istituzioni devono investire un po' in bellezza e troppo spesso purtroppo siamo portati ad affrontare specialmente nel mondo della politica le cose che non funzionano le cose che vanno male siamo portati a occuparsi dei problemi e delle criticità ogni tanto soffermarsi invece sulle potenzialità e sui talenti specialmente dei più giovani invece fa bene a tutti fa bene alla politica fa bene appunto al mondo perché la bellezza salverà il mondo un bando con il quale finalmente si dà attuazione alla legge regionale 3 del 2022 che utilizza le risorse derivanti dall'avanzo di bilancio del consiglio regionale 1.750.000 euro destinati ai comuni per scopi di promozione sociale culturale di aggregazione la street art l'identità il tema ecco dei parchi giochi inclusivi per i ragazzi bambini diversamente abili un'attenzione speciale da parte del consiglio regionale verso le nuove generazioni così come è previsto dallo stesso articolo 3 dello statuto perché vi è proprio questa menzione della salvaguardia e della diciamo promozione della vita delle generazioni future e quindi questo è veramente quello che abbiamo fatto tutti insieme perché ricordo che la stessa legge regionale è stata approvata ecco praticamente da tutti i gruppi consigliari e questo è un bel segnale che diamo verso l'esterno che il palazzo del Pegaso offre ai cittadini toscani e questo è un bel segnale